Noi continuiamo a lavorare, poi ognuno è adulto e vaccinato e fa le cose che ritiene più giusto fare. Io non ho nessuna possibilità di interferirne, non voglio interferire perché non ne avrei nemmeno la titolarità e quindi non capisco che c'è una sorta di legittima apprensione ma che non è la mia.